shalom a tutti e benvenuti a quest'altra lezione oggi il personaggio biblico di cui andiamo a trattare che già vi avevo anticipato sui social è rahab anzi è rahab questa come la caffettiera rahab allora la storia di rahab la chiamiamo così che viene più facile appare viene citata e la storia viene raccontata nel libro di giosuè giosuè il libro che sta immediatamente dopo al pentateuco e giosuè chi è giosuè è il successore di mosè quello che avrà l'arduo compito di portare a termine quello che mosè non riuscì a portare a termine che è quello di prendere il popolo e farlo entrare nella terra promessa ma tra la terra promessa e loro c'è in mezzo in questo questo frangente in questa parte di storia gerico la città di gerico e quindi giosuè si trova un punto fondamentale della storia di israele per il popolo di israele finalmente erano vicinissimi a entrare nella terra che dio gli aveva promesso allora giosuè nel primo capitolo vedrete che lui comincia a impartire gli ordini e comincia a dare la sua a passare la sua strategia e manda due uomini per ispezionare gerico prima di conquistarla allora andiamo a vedere eh io rimango solo novantanove per cento della lezione è su giosuè rimaniamo principalmente qui allora giosuè capitolo due il versetto uno or giosuè figlio di nun mandò due uomini da shittim per spiare di nascosto dicendo andate ispezionate il paese e gerico così essi andarono entrarono ed entrarono in casa di una prostituta chiamata Rahab e la alloggiarono ok in questo modo entra in scena la nostra protagonista della lezione di oggi entra in scena come in modo involontario in modo non voluto non cercato non richiesto lei senza volerlo senza chiederlo senza pensarci si ritrova essere protagonista di una situazione che poi entrerà nella storia tanto la situazione quanto lei stessa allora la parola la il nome Rahab significa ampia larga spaziosa non grassa eh larga ampia in ebraico ogni ogni sostantivo deriva da un verbo tutti i sostantivi tutti i nomi derivano da un verbo eh solitamente è composto da due tre lettere la radice e la radice sempre di Rahab è sempre Rahab che vuol dire fare spazio e fare largo il nome di Rahab significa fare spazio e fare largo ed è un significato ed ha il nome ha il suo senso e il suo pieno significato a questo punto della sua vita magari non ce l'ha se non a questo punto della sua vita fa spazio e fa largo eh in questo preciso istante della sua vita lei si trova casualmente coinvolta in una determinata situazione andiamo in il versetto dopo che dice così la cosa fu riferita al re di Gerico e gli fu detto ecco alcuni figli di Israele sono venuti qui questa notte per esplorare il paese allora il re di Gerico mandò a dire a Rahab fa uscire gli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua perché sono venuti ad esplorare il paese ok questa è la storia nonostante le due spie sono entrate di notte di nascosto probabilmente dalle mura a quanto pare neanche il nemico dorme o sonnicchia o abbassa la guardia tant'è che in qualche modo seppur loro sono entrati di nascosto e di notte qualcuno deve averli visti e ha riportato il fatto al re il re a questo punto in modo celere manda una missiva a Rahab la prostituta quindi Rahab si ritrova involontariamente in questa situazione e a ricevere una lettera del re del suo re allora io non credo che sia una cosa giornaliera ricevere lettere dal proprio re o nel nostro caso dal presidente della repubblica no che ti manda una lettera così indirizzata proprio a te e soprattutto neanche una lettera semplice perché comunque si è una lettera che ha un sotto intendere questa lettera in questo momento della storia lei da passiva da una che ha subito questa intrusione e subisce l'arrivo di questa lettera in quel momento lei prende le retini della sua vita della sua storia e diventa da da passiva da spettatrice passiva a protagonista lei diventa protagonista di un evento che verrà ricordato per secoli e non è una cosa semplice la sua scelta perché la lettera del re come vi dicevo per quanto se la leggete sembra molto semplice ma sotto inteso è se non lo fai stai disubbidendo il re e quindi disubbidire il re e guivare la morte quindi lei sta mettendo in gioco la sua vita in questo preciso istante andiamo avanti versetto 4 dice ma la donna prese i due uomini lì nascose poi disse è vero quegli uomini sono venuti da me ma non sapevo di dove fossero in questo istante lei cambia il corso della sua storia al momento in cui si chiudeva la porta della città quando era buio quegli uomini sono usciti dove siano andati non lo so inseguitevi subito perché li potete raggiungere il versetto 6 dice essa invece li aveva fatti salire sul tetto e li aveva nascosti fra gli steli di lino che aveva disteso sul tetto essi allora li inseguirono sulla strada del giordano verso i guadi e non appena gli inseguitori furono usciti la porta fu chiusa ok capito la storia c'è un momento epico Giosuè e tutto il popolo di Israele si trova di fronte a un ostacolo per entrare nella terra che Dio gli ha promesso c'è Gerico che deve essere conquistata e quindi mandano un buon stratega mandano spie queste spie però vengono già beccate già si sa dove stanno e allora il re dice falle uscire immediatamente ma Rab decide di mentire decide di mentire agli emissari del re con il rischio della propria vita e di mandarli fuori strada e mi nasconde le spie e la domanda che sorge spontanea è ma perché una prostituta una donna che agli occhi di molti non deve avere molto eh molto valore eh rischia la propria pelle per proteggere due persone che sono perfetti sconosciuti e soprattutto eh dà spazio a due persone a due spie che sono lì con l'intento di spiare la città per poi distruggerla perché dai spazio a queste persone perché non sei patriottica perché non gridi aiuto aiuto e racconti tutto al re la risposta ce l'ha da lei al versetto 8 e dice infatti ora prima che le spie si addormentassero Rab salì da loro sul tetto e disse a quegli uomini io so io so io so che l'eterno vi ha dato il paese che il terrore di voi è caduto su di noi e che tutti gli abitanti del paese vengono meno dalla paura davanti a voi perché noi abbiamo dito come l'eterno asciugò le acque dal Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto e ciò che faceste ai due re degli amorei di là dal Giordano Sihon e Og che votaste allo sterminio allo dire queste cose il nostro cuore è venuto meno e non mi è non è più rimasto coraggio in alcuno a motivo di voi perché l'eterno il vostro Dio che è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra perché l'eterno il vostro Dio è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra or dunque vi prego giuratemi per l'eterno che come io vi ho usato clemenza anche voi userete clemenza con la casa di mio padre datemi quindi un segno sicuro che lascerete in vita mio padre mia madre i miei fratelli le mie sorelle e tutto ciò che appartiene a loro e che risparmierete le nostre vite dalla morte ok chiaro fatto chiaro sta succedendo Raab in questa richiesta ce l'avete davanti quindi guardatela afferma due straordinarie ed enormi verità e grazie a queste verità che lei proclama fa sì queste due verità proclamate che la sua vita da lì in avanti cambi per sempre la prima verità che dice che vi ho sottolineato mostrandovi la il versetto è io so io so che l'eterno vi ha dato il paese non dice è molto probabile visto le vostre ultime vittorie che l'eterno vi darà il paese futuro no no lei dice vi ha dato perché è così certa perché Raab ha guardato i suoi compaesani li ha guardati li ha ascoltati probabilmente li ha ascoltati anche dentro il suo letto dove gli uomini più valorosi I'm sorry anche ricordando Sansone eh si fa ingannare facilmente da un fascino di una donna e scioglie eh i nodi e parla anche quello che non dovrebbe dire e probabilmente in questo clima intimo guardando la città e ascoltando le persone vedendo e lei ha detettato ha capito lo stato d'animo di coloro che avrebbero dovuto difendere poi il paese no e ha visto quindi che c'era paura un esercito ragazzi che ha paura è un esercito che che verrà sconfitto senza contare poi che quando lei narra i fatti del mare che si apre non è che sia passati secoli anzi sono passati solo quarant'anni è molto vicino a una storia recente un tempo relativamente breve i fatti sembrano ancora freschi basta pensare invece viene un attimo da piangere ma basta pensare che quarant'anni per noi sono gli anni ottanta pensaci ed è per quanto ti sembra molto lontano però abbastanza fresco sono ancora vivi di noi ricordi ma la sua certezza che Dio ha dato eh Gerico al popolo di Israele non è solo pratica o psicologica ma è anche spirituale e lo dice nella seconda affermazione che vi avevo sottolineato perché l'eterno il vostro Dio è Dio di lassù nei cieli e qua giù sulla terra che ha fatto Rahab in questa proclamazione lei ha pubblicamente riconosciuto che il Dio di Israele non è solo il Dio di Israele ma è il Dio di tutti lassù nei cieli e anche questa terra questa terra dove ci siamo noi pagani è lui il Dio eh che succede quindi che quando lei fa questa proclamazione quando lei fa questa richiesta quando lei fa questa domanda demanda anzi alle spie eh lei in realtà sta parlando alle spie ma in realtà si sta rivolgendo direttamente a Dio e con grande intelligenza lei non tratta con Dio come ha fatto Abramo il riguardo a Sodoma e Gomorra se andate a leggere la storia non la leggeremo ora di Sodoma e Gomorra che si trova in Genesi al capitolo diciotto e quando Dio avvisa Abramo che avrebbe distrutto Sodoma e Gomorra Abramo inizia quello che in maniera pratica possiamo chiamare un negoziato e comincia a dire a Dio ah ma se trovi cinquanta giusti la distruggerai e Dio dice no per amore di cinquanta no e se ne trovi quarantacinque e va va mano a mano va scendendo e se ne trovi quaranta e se ne trovi trenta fino al punto che si ferma a dieci se trovi dieci giusti distruggerai Sodoma e Gomorra e Dio gli dice no per amore di dieci e lì si ferma ma Rahab è più furba perché lei non si limita ad un numero lei va sul sicuro e abbraccia tutto quello che è suo e che lei ha cuore quindi che cosa dice mi dovete promettere che non ucciderete e lascerete in vita mio padre mia madre miei fratelli le mie sorelle e più tutto ciò che allora appartiene che risparmierete le nostre vite dalla morte quindi lei guardate che cosa straordinaria no mentre la famiglia in questo momento siamo di notte e lei ha fuorviato le spie nessuno sa che queste due spie stanno ancora a casa di Rahab è un momento che ci sono solo loro due e questa donna nessuno sa quello che sta succedendo mentre la famiglia è a parte totalmente ignara del patto che Rahab stava facendo quella famiglia che non lo so eh non lo so potrei pensare non è detto che è ma potrei pensare che magari l'aveva anche rigettata per il mistero che aveva scelto di fare o che non aveva una grande considerazione di lei che non aveva magari accettato la sua scelta o o magari 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 per assurdo conoscendo il patto poteva anche aver da ridire su questa scelta poteva dire che fai ma sei matta ma ti alleni ti alleni ti allei con il nemico eh sei una traditrice no con questa con questa eh folle e rischiosa molto rischiosa perché si tratta della vita scelta che Rahab fa lei in quel preciso istante stava salvando lei stessa e tutta la famiglia e tutti i loro beni con questa scelta in questo momento lei ha capito che non c'è scampo che non c'è possibilità di salvezza che Dio ha decretato non lo sa nessuno dentro Gerico ma lei lo sa lei è convinta e quindi dice visto che è salvate anche me visto che io vi ho protetto versetto quattordici cosa dicono quindi le spie quegli uomini le risposero le nostre vite per le vostre purché non svegliate questo nostro affare e quando l'eterno ci darà il paese noi ti tratteremo con clemenza e lealtà e quando l'eterno ci darà il nostro paese e quando l'eterno ci darà il nostro paese le spie anche hanno fede non dicono e se l'eterno ci darà questo paese no dice quando quando l'eterno ci darà cioè certezza da che vi accende la lampadina certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono cos'è fede sia le spie che raghab hanno avuto fede qualcosa che ancora non era accaduto non è successo ancora niente il popolo sta ancora dall'altra parte deve ancora a chilometri di distanza ha mandato solo due spie ma loro hanno la certezza che quello che dio ha decretato certamente accadrà cos'è quindi la fede è credere che quello che dio ha promesso accadrà di sicuro non importa non importa la difficoltà o la battaglia perché ci sarà in molti casi una battaglia si deve affrontare prima di vedere la promessa a compiersi ma così sarà come dio ha decretato tant'è che a motivo di questa scelta che lei fa e di questa proclamazione in ebrei che è il famoso capitolo degli eroi della fede in ebrei capitolo undici al versetto trentuno viene ricordata proprio lei per fede raghab la prostituta non perì non è morta con gli increduli perché perché aveva accolto in pace le spie questo è avere fede è rimasta eh nella lista di coloro che hanno avuto fede che per la loro fede si sono fatti notare e sono scritti per secoli e secoli le sulle loro gesta eh versetto quindici andiamo avanti versetto quindici dice allora elli ella li calò dalla finestra con una corda perché la sua casa si trovava sulle mura della città ed essa abitava sulle mura e disse loro andate verso il monte affinché i vostri inseguitori non vi abbiano a trovare e rimanete nascosti là tre giorni finché i vostri inseguitori siano ritornati poi andrete per la vostra strada ok li protegge e li manda eh lontani per un posto finché poi questi ritornando loro potevano andare ritornare al al popolo di Israele la sua casa era sulle mura niente è per caso la sua casa era sulle mura il palazzo del re normalmente sta il al centro della città no lontano dalla mura dalle mura e lontano da possibili attacchi del nemico invece la casa di Rab è proprio lì proprio su quelle mura proprio nel posto giusto al momento giusto Rab si trova su quelle mura che se conoscete la storia di Gerico e la toccheremo velocemente da lì a poco sarebbero crollate quelle mura eh e lei quelle mura in quel momento furono la sua opportunità di salvezza perché Dio e questa è una perla che io posso aver trovato di insegnamento per me che mi dà questo messaggio perché Dio manda i suoi messaggeri i suoi angelos e anche nelle città più difficili e più lontane ma se sai ascoltarli e accetti la salvezza che vengono a portare ecco allora che quelle mura che sono state la tua prigione il tuo luogo di peccato ben presto crolleranno da lì io ti do la possibilità di riparare di ascoltare di abbracciare questa salvezza che mi stai offrendo e queste mura che mi hanno tenuto prigioniere in una vita non sicuramente piacevole ben presto crolleranno andiamo avanti al 17 e dice così allora quegli uomini le dissero badate bene perché in questo momento loro stanno ratificando un giuramento stanno facendo una una specie di alleanza non una specie un'alleanza un piccolo patto quegli uomini le dissero noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare ricordate che avete detto prima la nostra vita per la vostra eh a meno che quando entreremo nel paese tu attacchi alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo scarlatto e raduni in casa presso di di te tuo padre tua madre i due fratelli e tutta la famiglia di tuo padre se però qualcuno esce fuori dalla porta di casa tua il suo sangue riguarda sul suo sul suo capo e noi non ne avremo colpa ma il sangue di chiunque sarà conto in casa riguarda sul nostro capo se qualcuno gli metterà le mani addosso ma se tu rivelli questo nostro affare saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare e la disse sia come avete detto poi li concedò e quelli se ne andarono essa allora legò la cordicella scattolata alla finestra questa scena credo che molti di voi magari già la conoscono un'alleanza viene ratificata in questo momento tra non solo le spie ma tutto il popolo di israele era hub quando un patto quando due persone suggellano un patto normalmente si fa un elenco di maledizioni e benedizioni cioè dei punti dei motivi per il quale questo patto è ratificato e cosa succede se questo patto viene rotto la salvezza di lei e della famiglia in questo caso specifico sarebbe stata la conseguenza la salvezza della di lei e della sua famiglia sarebbe stata la conseguenza dell'alleanza ma la morte di lei e della sua famiglia sarebbe stata la conseguenza della rottura di questa alleanza di questo patto ok oppure un'altra cosa se lei avesse svelato a qualcuno il giuramento si sarebbe rotto oppure se qualcuno si trovasse fuori di quella porta quindi l'alleanza era tutti dentro casa tua nessuno fuori e non devi dire niente a nessuno questi sono i termini dell'alleanza se fai così noi ci salviamo ovviamente e ti salvi anche tu perfetto alla fine di un patto di sangue di un'alleanza tant'è che in ebraico magari qualcuno lo sa la parola alleanza la parola berit che vuol dire taglio non è niente di religioso alleanza in ebraico e berit vuol dire taglio si taglia un'alleanza non si fa un'alleanza perché si taglia un'alleanza perché quando si fa un'alleanza con qualcuno ci deve essere sempre un piccolo versamento di sangue e nel caso più comune è il taglio della mano quindi veniva tagliata la mano un segno e si 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 dava la mano da qui nasce il darsi la mano in modo che il sangue di uno fluisse nel sangue dell'altro ed è simbolico la mia vita che entra nella tua vita poi si buttava la cenere sopra questo taglio in modo che formasse una cicatrice e questa cicatrice diventava un simbolo che qualcuno no che io sto in alleanza con qualcuno ok è logico che la vostra mente se siete veloci vi riporta al cristo le qui stigmati sono eh il simbolo che lui è in alleanza con l'umanità o meglio con tutti coloro che riconoscono quel sacrificio vicario quando lui alza le mani sono buchi che non ha nonostante il corpo glorificato li ha mantenuti perché sono un segnale che sta in alleanza con qualcuno ok questa alleanza senza versamento di sangue non c'è non c'è alleanza in questa alleanza molto particolare però non c'è un vero versamento di sangue ma c'è un simbolo molto forte che è proprio questa corda scarlatta so che qualcuno già lo sa perché non lo sa io lo rivedo scarlatto è la parola ehm l'etimologia della parola è chermes che è un ed è un chede aspetta chermes è un colorante rosso ricavato dai corpi essiccati delle femmine di alcune di alcune specie di cocciniglia ok solo le femmine della cocciniglia un particolare tipo danno questo colore rosso e questo colore rosso che usciva veniva usato dall'antichità per tingere ovviamente le stoffe solo la femmina produce il rosso solo Maria fa uscire da lei il figlio che avrebbe poi versato il sangue per tutti chiaro quindi che questa cordicella mi rappresenta chiaramente il sangue di Cristo che libera dai peccati che dà salvezza perché ogni libro ogni libro dell'antico testamento punta Cristo è nominato Cristo tra le righe sempre anche se esplicitamente non si vede come in questo caso poteva essere un altro colore perché proprio questa corda scalata questo filo questo filo scarlatto che è simbolo quel rosso eh per il popolo di Israele vedendo quel simbolo perché le mura la città alcuni studiosi dicono che è circa eh quattro chilometri eh larga la circonferenza della della città e mh se le persone solo le spie magari potevano ricordarsi dove era la casa di Rahab e gli altri potevano erroneamente magari entrare e distruggerla quindi loro gli hanno detto metti questo filo perché per noi sarà da segnale da simbolo che lì ci sei tu con tutta la tua famiglia non deve sta sparsa in altri posti devono essere tutti raccolti lì e questo simbolo rosso che ti viene in mente ti viene in mente quando durante il Pesach la Pesach la Pasqua ebraica eh il signore disse che bisognava mettere il sangue sugli stipidi delle porte affinché nella notte che un angelo eh sterminatore fosse passato eh per uccidere i primogeniti vedendo il rosso sarebbe Pesach questo vuol dire Pasqua passare oltre sarebbe passato passato oltre quella porta quella casa ecco nello stesso modo quel rosso di quella di quella corda il significato appunto questo che lì eh l'angelo sterminatore in questo caso il popolo di Israele sarebbe dovuto passare oltre e proteggere e liberare quella casa questa cordicella rossa quindi è simbolo di liberazione da un giudizio imminente è simbolo di sangue appunto color rosso come l'agnello che mi libera dal peccato e dalla condanna eterna il rosso poi scarlatto è uno dei tre colori insieme al viola e porpora è scelto da Dio per rivestire il tabernacolo quindi tutti i tendaggi sono di questi tre colori e l'efod che è eh quel rivestimento che poi andrete a vedere del sommo sacerdote quindi è simbolo anche di di divinità cioè Dio andiamo avanti versetto ventidue dice quelli dunque partirono e andarono sul monte dove rimasero tre giorni finché furono ritornati gli inseguitori gli inseguitori li avevano cercati per tutta la strada senza però trovarli così due uomini ritornarono sceso dal monte passarono nel Giordano e vennero da Giosuè figlio di Nun e gli raccontarono tutto quanto era loro accaduto e dissero a Giosuè guardate che dicono certamente l'Eterno ha dato in nostra mano tutto il paese e già tutti gli abitanti del paese vengono meno dalla paura davanti a noi ok come tornano loro vanno subito da Giosuè che è il leader e raccontano tutto e poi aggiungono questa ultima frase certamente l'Eterno ha dato in nostra mano tutto il paese tutti gli abitanti vengono meno dalla paura davanti a noi chi gli ha detto questa cosa loro ripetono le frasi di Rahab cioè Rahab in quel momento quando incontra le spie non solo lei è stata intelligente da capire la situazione e vedere la via d'uscita e la salvezza e la prende correndo ma lei inconsapevolmente si fa anche usare da Dio per confermare alle spie quindi al popolo di Israele la vittoria perché questo che fa una profezia lo dicevamo a lezione del corso Shamaim di secondo livello parlando dei doni spirituali che Dio ti dà a te il messaggio a te parla con te personalmente poi manda persone di qualsiasi tipo non necessariamente profeti eh di qualsiasi tipo a confermare quello che lui ha messo nel tuo cuore in quel momento Rahab ha confermato che quello che Dio gli aveva detto cioè che avrebbe dato la città nelle loro mani era vero che gli abitanti se la stavano facendo sotto eccolo lì ok quindi la storia poi avanti dal capitolo da questo versetto in poi si vede eh Giosuè che prepara la la conquista si prepara per la conquista fa tutta la strategia ed è molto interessante andatelo a leggere perché si basa eh su dei suoni di strumenti musicali e sul silenzio e solo alla fine c'è un grido è una strategia che Dio dà che eh sì ha tantissimi insegnamenti ma noi rimaniamo eh su Rahab la strategia di questa vittoria era questa loro dovevano girare intorno alle mura di Gerico che ripeto dovevano essere circa eh quattro chilometri dovevano girare per sei volte senza fare un fiato un fiato ehm c'erano i sacerdoti eh con lo scioffare con le trombe seguiva una un esercito piccolo poi c'era l'arca e poi c'era la retroguardia e loro dovevano fare il giro intorno a Gerico sei volte per sei giorni un giro un 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 giro e poi ritornavano all'accampamento secondo giorno un altro giro e ritornava all'accampamento terzo giorno un altro giro e così vai per sei giorni follia follia così Dio quale cosa in modo folle immaginate la gente che sta sulle mura che vede sti giri come te cresce l'ansia e poi al settimo avrebbero dovuto gridare e come avrebbero come gridavano le mura sarebbero crollate e loro dritti davanti a loro dovevano entrare e conquistare la città ma guardate che dice Giosuè quindi il leader in questo momento il capo scelto per guidare tutto il popolo di Israele allora Giosuè capitolo sei quando lui da tutte le direttive versetto diciassette lui è un uomo di Dio che ricorda e osserva le alleanze che ha fatto infatti al versetto dici di sedici vede di dice la settima volta quando i sacerdoti suona suonarono le trombe Gesùè disse al popolo gridate perché l'eterno vi ha dato la città la città sarà votata allo sterminio e tutto ciò che in essa soltanto Rahab la prostituta avrà salva la vita lei e tutti quelli che sono in casa con lei perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati versetto 22 dice poi succede questo distruggono la città e poi dice Gesùè al versetto 22 disse quindi ai due uomini che avevano esplorato il paese andate in casa di quella prostituta e conducete fuori la donna e tutto ciò che le appartiene come le avevate come le avete giurato allora i giovani che avevano esplorato il paese andarono e condussero fuori Rahab suo padre sua madre i suoi fratelli e tutto ciò che le apparteneva così condussero fuori tutti i suoi parenti e li lasciarono fuori dall'accampamento di Israele poi diedero fuori alla città e a tutto ciò che conteneva presero solo l'argento l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro che misero nel tesoro della casa dell'eterno ma Gesùè lasciò in vita Rahab la prostituta la famiglia di suo padre e tutto ciò che le apparteneva così essa ha dimorato in mezzo Israele fino al giorno d'oggi perché aveva nascosto i messaggeri di Gesùè che Gesùè aveva mandato ad esplorare Gerico allora le gesta di questa donna furono raccontate nei secoli a seguire perché furono registrate nel libro di Gesùè e furono raccontate al punto che l'autore di ebrei come vi ho detto prima la citano e anche Giacomo cita Rahab al capitolo 2 al versetto 25 di Giacomo e dice similmente anche Rahab alla prostituta non fu essa giustificata per le opere quando accolse i messi e li rimandò per un'altra strada quelle opere di fede così grandi che è entrata nella storia e sono in fase di conclusione con la sorpresa finale che qualcuno ovviamente già conosce ma una sorpresa che chi non conosce la Bibbia e chi non conosce il nostro Dio non ti aspetti Rahab entra a far parte della genealogia del re Davide e quindi di Gesù che significa entrare a far parte della genealogia di Davide questo è il momento che salto a Matteo capitolo eh uno Matteo capitolo uno versetto cinque quando comincia a fare vi annoierò ma ma la genealogia ha delle belle perle ne troviamo un paio libro della genealogia di Gesù Cristo che cos'è la genealogia all'albero genealogico no tutti i i padri e madri carenti per arrivare a Gesù Gesù Cristo figlio di Davide figlio di Abramo parte da Abramo Abramo genere sacco che è il figlio della promessa il sacco genere Giacobbe segue la linea eh non segue non ti dice tutti i figli che ha avuto appunto perché è la parte la parte che arriva a Gesù Isacco genera Giacobbe Giacobbe genera Giuda e i suoi fratelli Giuda generò Fares ed Zara da Tamar Fares generò Esdrom Esdrom generò Aram Aram generò Aminadab Aminadab generò Nasson Nasson generò Salmon Salmon generò Boaz Obet obet generò Iesse generò Iesse generò il re Davide il re Davide generò Salomone da quella che era stata moglie di Uria Salomone generò Roboamo Roboamo generò Abbia Abbia generò Asasa Giusefat Giosafat Yoram Miorab Ozia Ozzia Iotam, Iotamma Cazza, Cazza Ezechia, Ezechia Manasse, Manasse Amon, Amon Iosia e così via no? Iosia Iaconia e tutti i suoi fratelli dopo la deportazione bla 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 non ve li leggo tutti che sono un monte e Giacobbe generò Giuseppe il marito di Maria dalla quale nacque Gesù che è chiamato Cristo. Ok e si arriva fino a Gesù. Perfetto. Questo è quello che ci sorprende. Il Raab molto probabilmente è lei perché non c'è nessun'altra Raab e perché mi dovrebbe nominare questa donna? Nel libro di Ruth si porta eh Ruth al capitolo quattro ci vado io velocemente alla fine del libro proprio c'è la genealogia di Davide ma nella genealogia di Davide riscritta dal libro di Ruth si parla solo dei padri. Eh le vicine chiedero un nome e dicevano è nato un figlio a nomi lo chiamarono Obed. I fu padre di Isai padre di Davide. Ecco la posterità di Perez. Perez generò Ezron Ezron Ram Ram Abbinadab Abbinadab Anashon Salmon Salmon generò Boaz Boaz Obed Obed Isai Davide. Non vengono citate le donne. Vengono solo citati i padri. Sarà poi solo nella descrizione della genealogia di Gesù. Io lo trovo molto interessante questo. Solo nelle genealogia di Gesù in Matteo io scopro chi è la madre. E un'altra chicca è che nella genealogia di Gesù non tutte le donne vengono scritte. Non c'è scritto Sara per esempio. Strano. Non viene scritto Rachele. Non viene scritto anzi Rachele no perché non è lei della linea genealogica. Non viene scritta Rebecca. Non viene scritto Lea. Però vengono scritte Tamara, Tamar, Rahab, Ruth, la vedova di Uria, la Batsheba e infine Maria. Cinque donne vengono citate in questo elenco di antenati che poi arriva al Messia. Però non vengono nominate delle matriarche. Molto strano. Così velocemente mi viene in mente che cosa hanno in comune queste cinque donne che sono citate. Per questo io credo fermamente che Rahab è quella Rahab. Perché queste cinque donne hanno uno straordinario coraggio. Hanno un coraggio sopra le righe. Andatevi a studiare la storia anche di Tamar. Molto interessante. donne che non hanno guardato la loro condizione che non si sono autocommiserate che non hanno fatto piagnistei che non si sono lamentate e che hanno creduto in una maniera così ferma e decisa al punto di fare delle azioni epiche. hanno mostrato una grande fede che le ha portate, dicevamo invece al corso del primo livello parlando di fede, ad agire. Perché la fede sempre, sempre richiede azione. la fede non è mera contemplazione che sta nel tuo cuore, ma la fede sempre ti porta a fare qualcosa. Se hai fede, si vede. Perché ci sarà un'azione o una proclamazione conseguente e coerente con quello che dici di credere. e hanno mostrato una fede e una determinazione e un amore per questo Dio in cui hanno creduto, che hanno cresciuto dei figli straordinari. Da loro è uscito Giuda, Boaz, Boaz di Ruth che abbiamo visto la storia, il grande re Davide, Salomone e per ultimo, e non ultimo, il nostro Signore Gesù. Ecco allora, questa è la storia di Rab e la parola di Dio, noi che ci facciamo questa passeggiata nelle biografie di questi personaggi, no? Non è per farcela fare loro, ma perché leggendole, noi siamo ispirati da loro. La parola ci fa da specchio, no? Ci aiuta a riflettere e a tirare fuori il meglio di ognuno di noi. Perché c'è. Rab è una prostituta. Rab è una donna in cui sicuramente gli uomini non danno grande valore. Eppure questa donna è riuscita a uscire fuori da questo stato e a fare delle cose straordinarie, un coraggio straordinario. E questi personaggi quindi ci ispirano a noi, ci fanno pensare e riflettere. Che intanto Dio non gliene frega niente del tuo passato, a Dio non gliene frega niente della tua cultura, di quante la ave hai, di quanto sei intelligente. Dio non importa nulla di tutto ciò. Dio importa il cuore, quello che sei pronta a credere e quindi a fare. Non importa il passato, perché Dio è talmente straordinario che a motivo della fede, delle opere di questa donna, lei entra nella genealogia di Gesù Cristo. Nella genealogia di Gesù c'è Ruth, che è una muabita, una pagana, una estranea al popolo di Israele e c'è Rahab, una prostituta. Ecco, questo è Dio, che non fa eccezione di persona. Dove sei, chi sei, non importa. Quello che hai fatto, che non hai fatto, non importa. C'è sempre un punto dove si può cominciare da zero e distruggere quelle mura che ti hanno tenuto prigioniero o prigioniera. Questa è quello che a me ha passato la storia di Rahab. Poi mi fate sapere a voi quello che invece è venuto fuori rileggendola e vedendola insieme. Grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima lezione.